Ciao Palermo, sono qua, vado a mangiare, però sto cercando la mia insegnante che mi ha insegnato l'italiano, si chiama Isabella Costa. Se qualcuno sa dov'è, potete per favore mandarmi il suo numero e questo non è un scherzo, sto cercando Isabella Costa. Isabella dove sei? Non ti trovo, sono qua nella tua città, rispondimi.